Un altro lieto film Ok, che succede? Il veicolo sospetto corrispondente alla descrizione si trova nella zona vicino a Grace Cathedral Il signore sia lodato Andiamo La dottore Salen parlava di una macchina sportiva bianca Se troviamo l'auto, forse troviamo la ragazza col coltello Per una volta chiudiamo un caso Bella guida Eccola Sì, corrisponde Dai, scatta una foto Fatto Wow, la ragazza è roba da calendario Avviciniamoci Giverei che ha qualcosa di familiare Aspetta, vediamo se riusciamo a identificarla Sì, sono Controlliamo la targa Ah, lavoro di polizia vecchia scuola Mette parli la mia lingua Centrale, qui 40 Adam 30 Controllate questa targa 8BR8139 Ricevuto Vi ho anche una fotografia La sospetta era molto lontana, ma fate del vostro meglio Ricevuto Sei troppo vicino, Sandra Allontanati un po', ma non perdere Fai questo, fai quello, sei peggio di mia madre 40 Adam 30, mi sentite? Vi avete trovato Il mezzo appartiene a un arzillo a 89 anni dell'Idao Ok, mi sa che hanno rubato l'auto alla nonna No, no